Una testimonianza del ruolo dei fattori biologici, psichici e sociali nei pazienti con dolore cronico sottoposti a chirurgia e lo scopo della mostra Vertebrart, presentata a Palazzo Lascaris dall'omonima associazione turinese. L'allestimento è frutto della collaborazione tra chirurghi della Vertebra, l'equipe di Torino e artisti che hanno elaborato strumenti medici con stoffe colorate della Sartoria Orlando Furioso da anni impegnata in percorsi per donne con difficoltà psichiche. In effetti vi è una consapevolezza diffusa, crescente nel mondo del fatto che il dolore cronico che riguarda il 40% della popolazione adulta abbia un importante componente emotiva per cui le attività culturali sono oltre un arricchimento per il medico anche un motivo di salute per il paziente quando viene coinvolto in una comprensione maggiore di cosa siano il dolore e le problematiche che riguardano la sua età. Grazie.